Willy Nelson, lo conoscete? Sì! E il pezzo parla di amicizia, di persone che si trovano assieme per suonare, per girare il mondo e per stare bene, per vivere la vita, a modo loro. Sì! 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 And now we are a rookie Just can't wait, just don't move in La flow, let's make a music with my friend How can we get on the road again? Come again Sì Sì